giochiamo un po alzato un po il volume perché era troppo basso ora vediamo come si sente nel video non sembra molto alto da sentirsi anche fuori dal garage vediamo se va bene lo lascio così prima volta che faccio il filmato della tre farfalle vediamo bene c'è questo da fermare c'è la musica di 2 schiacciamo adesso parte ho fatto 4 un'altra volta 4 quindi per quattro volte mi darà 10 monete ma non ci sono 40 monete dentro sbaglio due volte perché non ci sono 40 monete dentro eccolo qua mi sbaglio tanto che mi interessa non mi interessa la terza vincita questa vinciamo la prossima la sbaglio perché non ci sono abbastanza monete dentro ok e questo era il gioco delle tre farfalle che bello che uscito sono riuscito a fermarlo